1, 2, 3 2, 3, 2. Quindi a Charliecomonti in volo in 07 riportato a Desenzano Copiato, riporteremo Desenzano in volo agli 07 per l'alpha papaccia a Diego E' vero, siamo a 300 metri E noi ce ne andiamo di quadro a poco con Padova in passione per voi va bene Noi andiamo verso Feschiera La mollo piano piano così non dà fastidio ditemi qualcosa Tutto ok, capo posto, capo posto Anche un po' spessi Dietro comparirà Sì, sì, sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti